Paura in via degli accolti ad Arezzo per un incendio che si è sviluppato all'interno di uno scantinato in una palazzina di case popolari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arezzo che hanno spento il rogo. Le fiamme sarebbero divampate da un materasso e da alcuni rifiuti che erano all'esterno dello scantinato del palazzo per poi propagarsi all'interno del fondo. Nel locale erano infatti ammassati vestiti e masserizie che si sono incendiati con facilità. Rifiuti della cui presenza si era occupata anche la consigliera di Forza Italia Meristella Cornacchini e anche la nostra redazione. Fortunatamente grazie all'intervento dei vigili del fuoco nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.